Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te lo dico io, la vostra pillola settimanale di cinema da mandar giù tutta l'unfeato. Questa settimana è ricchissima, avrai l'imbarazzo della scelta e non saprai quale film andare a vedere, per questo te lo dico io. Partiamo rapidissimi con Deadpool, l'unico e il solo supereroe per adulti. In America è rigorosamente obbligatorio vederlo accompagnati da un grande, se si hanno meno di 17 anni. Questo però non ha impedito a Deadpool di incassare 135 milioni di dollari in tre giorni. Cinecomic diretto da Tim Miller e interpretato da Ryan Reynolds, di cui abbiamo da poco parlato in una puntata di Ficcanaso, se ve la siete persa andatevela a rivedere. Deadpool è già apparso al cinema, sempre interpretato da Ryan Reynolds in X-Men Le Origini, Wolverine. Il supereroe che risponde al nome di Wade Wilson è un mercenario dotato di riflessi e velocità straordinari, che in seguito ad esperimenti genetici arriva ad acquisire particolari abilità mutanti, come ad esempio un'incredibile rigenerazione cellulare. Cioè nel senso che tipo si riesce a romper telefono, no? Si casca il cellulare, quello riesce a rigenerarlo. Fico, no? Nell'universo classico Wilson inizia la sua carriera come mercenario con un'infanzia alle spalle segnata dalla perdita dei genitori, grande classico dei supereroi, e da un atteggiamento ribelle. E in seguito alla scoperta di un cancro terminale accetta la possibilità di salvarsi sottoponendosi a degli esperimenti che vorrebbero ricreare su uomini normali il fattore rigenerante di Wolverine. L'esperimento riesce, ma il fattore rigenerante si lega indissolubilmente alle cellule tumorali, conferendo a Wade un aspetto orribile e spaventoso. I suoi stessi neuroni vengono affetti da una rigenerazione troppo accelerata, risultato un disturbo di personalità plurimo, che vira imprevedibilmente dalla lucida intelligenza alla pazzia insensata più brutale. Sembra una storia molto intrigante, andrete a curiosare, altrimenti sul menù ho da offrirvi Zootropolis, in cui il miglior cinema poliziesco incontra il miglior cinema d'animazione. Zootropolis è il cinquantacinquesimo lungometraggio animato, targato Disney e diretto da Byron Howard, Rich Moore e Jared Bash. Il film sarà una sorta di fusione tra Quarantottore e Robin Hood, e racconterà la storia di due personaggi diametralmente opposti, che diventeranno amici in una città interamente popolata da animali. Una moderna metropoli, una città diversa da tutte le altre, composta da quartieri differenti, come il caldo e umido distretto di foresta pluviale e la gelida Tundra Town. Tutti gli animali della città sono ovviamente antropomorfi, e convivono pacificamente, senza la cruda e pericolosa separazione, predatori e prede. A prestare la propria voce ai personaggi del film ci saranno Massimo Lopez, che sarà il leone sindaco di Zootropolis, Paolo Ruffini, che sarà Jax, il bovino più illuminato e pacifico della città, Nicola Savino invece sarà Flash, il bradipo più veloce, all'interno del dipartimento dei veicoli mammiferi, mentre il nostro Frank Matano è Duke, una piccola faina truffaldina. E infine Diego Abbatantuono e Finnick la volpe, Teresa Mannino è Frou Frou, la figlia del più pericoloso boss criminale di Tundra Town, che invece è doppiato da Leo Gullotta. Nella colonna sonora della pellicola c'è anche Shakira, con il brano Try Everything, che presta la voce alla sensuale gazelle. Niente cartoon, e allora vi servo subito con The Danish Girl, diretto da regista premio Oscar Tom Hooper, e incentrato sulla storia di Einar Wegner, il primo uomo diventato donna dopo essersi sottoposto, nei primi decenni del Novecento, ad una serie di interventi chirurgici. Nel ruolo del protagonista troviamo Eddie Redmayne, di una bravura incontenibile che rischia il premio Oscar anche quest'anno, già vinto l'anno scorso dopo la straordinaria interpretazione dello scienziato Stephen Hawking in La Teoria del Tutto. Insieme a lui la deliziosa, nonché altrettanto eccezionale, Alicia Vikander, che non solo è la fidanzata di Michael Fassbender, ma è bravissima ed è stata candidata all'Oscar come migliore attrice non protagonista. Alicia, che vuoi di più della vita? Ho avuto già il piacere di vedere Danish Girl, e sappiate che per me è stata una meravigliosa rivelazione, una storia d'amore che parla di molti tipi d'amore diversi, ma che ugualmente vi prenderanno tutti allo stomaco. Portati i fazzoletti, fidatevi. E chiudiamo con il caso Spotlight, che si è beccato una bella pioggia di nomination agli Oscar. È la storia del team di giornalisti investigativi del Boston Globe, soprannominato Spotlight, che nel 2002 ha sconvolto la città con le sue rivelazioni sulla copertura sistematica da parte della Chiesa Cattolica degli abusi sessuali commessi sui minori da oltre 70 sacerdoti locali, in un'inchiesta premiata con il premio Pulitzer. Il casta incredibile è a tre punte di diamante, che sono Michael Keaton, Rachel McAdams e Mark Raffalo. Allora, non sapete a chi dare i resti o siete fermamente convinti e decisi di cosa andrete a vedere questa settimana? Fatemelo sapere in un commento qui sotto. E non dimenticate di passare su ScreenWeek.it per non perdere nessuna Cine News e di scaricare l'app gratuita per iOS e Android che trovate come ScreenWeekTV in tutti gli store. Io invece sono Violetta e mi trovate su tutti i social e su YouTube come ViolettaRox. Ai prossimi appuntamenti! Ciao ciao!